Uomini, sei bloccato, sergente. Irish, ci manca solo che ci facciano prendere. Al panico. Mi sboventi quando parli così? Vaca, aiutami a spostarlo. Stiamo affrontando. Cazzo, ti tireremo fuori, Dan. Capito? E come? Sono bloccate. Merda! Non doveva finire così, Irish. Racker, prendi la mia arma. Che cazzo stai dicendo, Dan? Adesso è tua. Ma che cazzo pensi? Per sopravvivere ai lupi, si staccano le zampe a morsi. Spara! È negativo, non farlo! Allora, Racker, spara al finestrino! È un ordine! Non pensarci nemmeno, Racker! Mettetevi in salvo! Via da qui, via! È un regolo incazzato, amico! Spara al finestrino, morirete tutti! Spara al finestrino, non! Si, sò che cosa cosa dicevano. SOR質 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Gettala, gettala! Diamone, rete. Per poco non ti sparavo in faccia. Ce l'hai fatta. Tranquillo, Pac. Dove cazzo eri? Quando la consegna è andata a farsi friggere mi sono fiondato qui. Erano russi, vero? Le parti speciali. Quelli vanno e vengono come fantasmi. Adesso calmati. Hai le informazioni? Sì, sì, ho tutto. Molto bene. Cazzo, è già giorno. Dobbiamo andarcele da qui. Dove si è cacciato, Irish? Come? Non è con te? Rompo il silenzio radio. Thompson 3, posizione. In arrivo da nord. Siamo nella merda. Chiedo copertura alla mia ritirata. Su, pensiamo noi, Irish. Rekker, tieniti pronti. E' coprita? Vai alla finestra! Dobbiamo coprire, Irish! Non sparate! Eccolo! Irish, attento! Via! Cazzo, via! Rekker! Le mici alle finestre dall'altra parte! Mi hanno incionato! Arrivano altri, ti vedi? Sparo, attenzione! Ancora due a sinistra! Stantili! 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 Oggi! No! Sono ancora... Irish! Vieni qui! Si muove ancora qualcosa? Tutti sistemati! Libero! Mi serve aiuto! Stai bene, Irish? Cazzo! Questo rifugio non mi sembra molto sicuro. Tomston, in movimento! Portless, qui caposquadra Tomston. Abbiamo il pacchetto. Siamo lì quasi. Procediamo verso l'estrazione. Ricevuto, Tomston. Elicottero in arrivo. Portatevi in posizione. Chiudo. Sotto. N... Non ci hanno visto. Si, ci! Li elimineremo insieme. È il lavoro di squadra, Tomston. Attivano altri! Occhio! Vigono le distanze sui lati! Vigono! Carri! Guarda! 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 Non si può fare il giro. Bene, vai col botto. Forza, fai un bel buco, Recker! Attenti al botto, gente! Perfetto, andiamo. Caposquadro Tomston, qui Firebird 2-1, in avvicinamento. Arrivo previsto, passo. Sono felice di sentirti, Oks, facciamo progressi. Porta i tuoi ragazzi su quel tetto, non farmi aspettare. Controlli l'area, Reck. Ecco l'edificio. Direi più in mezzo edificio. Le due ciminiere, davanti a noi. Le vedi, Recker? Dovresti vedere il punto d'estrazione a sud-ovest. Bene, quello è il punto d'estrazione. Bene, Hawkins rilevava movimenti nemici. Le vedi? Ci sono un paio di stronzi di mezzo, eh? Il binocolo segnala anche armi e rifornimenti. Bene, tu sei pronto, Recker? Bene, tu sei pronto, Recker? Quattro. Attenzione ai settori. Occhi sul bersaglio. Piano, ora. Quattro nemici davanti a noi. Non va. Fai piano, Pac. Quattro. 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 Va. Direi qua. Quattro. Guardate leiset. ci sono altre tracce termiche coprirò io l'avanzata datemi i bersagli ricevuto ingaggio ricarichiamo un attimo ricarichiamo un attimo ricarico arrivo subito ok sparo ok in attesa di bersagli recupero arriviamo pronto per i bersagli stagli acquisito un attimo stiamo ricaricando un attimo 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 Pronto all'ingaggio, mi serve un bersaglio Ci sono altre tracce termiche sull'altura più avanti Pronto per i bersagli 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. aperti. Caposquadra Tomston, segnale sul radar, velivolo nemico. Oh, trasso, aiuto! Aiuto! Sì, sveglia di cuore! Sotto! Ti so, fanno scopo! Via, via, via! Via! Via, via! Sto impassando per a pezzi in questo posto! Faccio mezzo! Dovremmo essere all'ultimo piano! La squadra Tomston, dove cazzo siete? Ultimo piano, in corsa! Si sta allontanando! Dan, porta tutti sull'elicottero, ora! Spero che queste informazioni siano importanti! Mondiamoci! Salute! Esquite all'istante! Merda! Forza, indietro! Ho perso il controllo! Sto guidando! Mi hanno colpito! Precipito! 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 Oh, cazzo! Oh, cazzo! Sei tutto in zero! Bug! Ok, se resto dell'equipaggio! Nessun superstite! Tira fuori, Dan, da quei rottami! Non posso! È sepolto! Provaci! Tanto io penso a Ragnar! Ah, la gamba! Cavolo! Non ti fa spavolare la gamba! Se la caderai, Dan! Ti tireremo fuori di lì, vai, vai! Va, gravettina! Lo so, lo so! Beppo! Ragnar, scoprimi! Fuori, fuori! Subito! Aiuto, mi fermo! Per favore, mi fermo! Per favore! No, sta giù! Sta giù! Ragnar, dame in coltello! Perché sei senza? Devo amputare! Cosa? Ragnar, vieni qui! Un lupo in trappola si strappa la campa per soprapprire. Dai! Lo so è polperizzato! La tengono insieme, solo Carla e un ritorno! Dai, taglia! Cazzo, dobbiamo andare? È morto! Non è morto, è solo svenuto! Questo è tu il medico, Pat, dovresti saperlo! Ho fatto solo un corso di tre ore! Arrivano! Giù, giù! Andiamo, andiamo! I ricordi stanno tornando, andiamo! Ehi, i serbaiciani sono ok, eh? Forza, dentro! Te la caverai, Dan! Te la caverai, ci pensiamo noi! Tra tutto bene! Guida, boss! Certo che andrà tutto bene! Andiamo! Forza, Recker, guida tu! Piano, Pat! Vortress, qui Tomston! Il mezzo per indietro è andato! C'è un'altra via di fuga! Passo! Tomston, Vortress vi sta tracciando! Mezzo di recupero in arrivo! Seguite la strada, tre chilometri a ovest! Ricevuto, Vortress! In marcia! Dov'è l'elicottero? Non lo so, sto guardando! Merda! La gamba! La mia moglie mi ammazzerà! Dan, respira lì! Che la caverai! Tornerai! Sa, lo so! Se le informazioni sull'aviraglio c'è, sui russi sono esatte! Non sono diretti! A mezzo! Qualcun altro senti un pezzo di apertura intensi? Vieni tu! Accelera! Dalla personale! Va! Che succede? Perciò troppo salto! È presto! Fantastico! Travioso cazzo! Di siamo! Rekker, riesci a seminarlo? Non credo proprio! Quello cazzo è! Dov'è andato, eh? Non so dov'è finito! No, lo vedo! Procchi! Più veloce! E' mancato poco! Vai a tavoletta, cazzo! Si sta allineando! Ah, cazzo no! Ammazza quei figli di Troia! Figlio di puttana! Sì, Tomston ha recuperato le informazioni. E? In caso di colpo di stato militare in Cina, i russi sarebbero al fianco dell'ammiraglio Chang. Lo conferma il rapporto del nostro agente in Cina. Quindi il sergente Maggiore Dan è morto per qualcosa che sapevamo già. Ci sono delle rivolte nelle strade di Shanghai, capitano. Con il coinvolgimento dei russi. Dovevamo esserne certi. La chiusura di Suez è già una faccenda delicata. Una mossa falsa e ci ritroveremo in guerra. Bene, avete i vostri ordini. Agli ordini, signore. Rotta verso la costa est della Cina. Grazie a tutti. Voglio queste 구destinistiche. Grazie a tutti. Grazie a tutti